112 pagine a colori con tanto di supporto fotografico e questa è la guida a Turing Cosenza, il tesoro di Alarico, pronta per la distribuzione in tutte le librerie e presentata nel corso di una conferenza stampa nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi a Cosenza. Dal mare all'altopiano silano e luoghi mostrati nella guida attraverso gli scatti tra cui quelli che ritraggono la città di Cosenza firmati da Ercole Scorza e Mario Tosti. La guida, frutto della collaborazione tra Comune e Turing Club, punta a farsi strumento di supporto soprattutto per i turisti. Sì, è uno strumento importante perché copre una lacuna che è quella che Cosenza ha sempre avuto di non avere una guida che fosse presente in tutte le librerie italiane, così noi ci siamo messi in contatto con Turing, ci siamo messi in contatto anche con altri, poi abbiamo avuto la disponibilità di Turing e Turing Club, partendo da Cosenza, ha realizzato questo importante strumento per i possibili visitatori in modo che Cosenza possa diventare una meta e non più un luogo di passaggio. È uno strumento che illustra bene quelle bellezze artistiche, i percorsi turistici che ci sono all'interno della città di Cosenza, ma che collega anche la città con degli itinerari che sono nella provincia, sia al mare che in Sila. Quindi uno strumento completo che offre ai visitatori la possibilità di recarsi a Cosenza e finalmente avere una guida che possa illustrare quali possono essere immediatamente le strutture ricettive, i monumenti, i paesaggi che devono essere visitati. Nessun pericolo di disorientamento dunque per i flussi turistici che nella guida potranno rinvenire, tutte le informazioni utili sulla rete dei musei, delle biblioteche e dei teatri, ha rinnovato Corso Telesio con i tempi a ristora, passando attraverso gli eventi per arrivare agli itinerari e ai progetti. Noi dobbiamo puntare sul turismo, ovviamente lo stiamo facendo sin dall'inizio. Eravamo anche qui all'anno zero, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative con i bus scoperti, Scopri Cosenza, con degli itinerari, con dei percorsi. Stiamo facendo delle attività di valorizzazione anche della città, del centro storico, con degli eventi all'aperto, organizzati nei vari periodi, sia quelli estivi che quelli invernali. Dobbiamo valorizzare quello che è il patrimonio anche artistico, culturale, storico, architettonico che abbiamo all'interno della città. Il turismo è questo, il patrimonio ce l'abbiamo, ma dobbiamo fornire degli strumenti, dobbiamo fare un'attività di marketing, come si può fare proprio attraverso anche una guida. dobbiamo organizzare poi i servizi di accoglienza, di ospitalità, la logistica, insomma che è quella che serve poi anche per strutturare un'offerta turistica adeguata. La guida del Turing Club, quindi come strumento di marketing del territorio cosentino, giunta dopo un anno di lavoro ininterrotto, allo scopo di creare un alto livello di attrattività attorno alla città di Cosenza.